Un terremoto con epicentro in Valtiberina che scuote strade e palazzi medievali. È stato questo lo scenario dell'esercitazione effettuata nel centro storico Aretino dai Vigili del Fuoco della Toscana con la colonna mobile regionale. L'esercitazione ha coinvolto 10 equipaggi e due veicoli mobili appositamente attrezzati per l'elaborazione di dati per le comunicazioni in fase emergenziali per un totale di 38 unità provenienti da tutti i comandi dei Vigili del Fuoco della Toscana. L'attività è stata orientata alla verifica delle capacità di rilievo sulla percorribilità delle strade per la conduzione delle operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione, alla perimetrazione delle aree da sottoporre ad interdizione preventiva e all'elaborazione di ogni altra informazione utile alle autorità territoriali anche per la realizzazione dei primi interventi urgenti di protezione civile.